Finisce qui l'amichevole tra Juventus e Brest 2-2, la Juve Tiagomotta ancora non riesce ad ingranare, ancora non riesce a portare a casa la vittoria. La Juve tra l'altro si ritrova sotto nel punteggio, poi riesce a rimontarla per poi capitolare nuovamente con un altro gol subito. Devo cercare di metterla in ordine questa partita perché secondo me ci sono diverse cose da dire. È un misto, credo che il primo tempo sia stato molto noioso di partita in generale, è stata una partita non meravigliosa. Nel secondo tempo invece qualcosina è migliorato dal punto di vista del divertimento, poi non stiamo parlando della partita più bella del mondo, ma stiamo parlando di calcio d'agosto a tutti gli effetti, una sgambata, una sudata, una faticata, però dobbiamo anche registrare il fatto che si è già fatto meglio nel risultato rispetto alla pessima apertura di Norimberga. Quindi se tanto mi da tanto, la prossima Michele dovremmo riuscire a vincerla, quindi perdita, sconfitta, pareggio e vittoria. Scherzi a parte. Una Juve che mi è sembrata volenterosa di provare un po' di cose nuove. Già nella prima frazione, anche se non è stata una prima frazione di altissimo livello, è già stato un primo tempo nettamente meglio rispetto a quello tedesco, dove veramente lì la Juventus era stata inguardabile, non mi viene in mente un'altra definizione. In questo caso abbiamo provato un po' di cosine simpatiche, come ad esempio la volontà di cambiare spesso lato a trovare UEA completamente solo sulla corsia destra, questo è stato il piano gara, la volontà di alzare cambiaso sulla linea dei centrocampisti per andare ad impostare insieme a Turam, che però spesso e volentieri è stato lasciato un po' troppo solo. Oggi mi è sembrato evidente che la Juventus stesse provando una disposizione tattica in chiave 4-1-4-1, più che 4-2-3-1, 4-1-4-1, perché spesso e volentieri avevamo proprio Turam da solo al centro del centrocampo, con tutti gli altri giocatori che andavano in giro per il campo, e soprattutto avevamo due mezze ali, che in questo caso erano Fagioli e Locatelli, che non giocavano uno come mediano, secondo me l'hanno aggiunto a Turam e l'altro come trequartista, giocavano decisamente come mezze ali molto molto aperte. Avevamo già parlato tante volte della filosofia di Tiago Motta di volere aprire molto gli interni di centrocampo, ecco, oggi secondo me l'abbiamo visto molto di più rispetto alla partita disputata in Germania, con Fagioli che si allargava spesso sulla sinistra e Locatelli spesso sulla destra, entrambi molto alti, Fagioli forse quello che cercava di venire un po' più dentro il campo per il palleggio, invece Locatelli era il giocatore che andava quasi a pressare all'altezza di Vlaovic, oggi è sembrato quasi di avere a disposizione una vera e propria seconda punta con Locatelli, e quindi l'idea di Tiago Motta era di mettere quei due giocatori in quella condizione, in quella porzione di campo per cercare anche di allargare i giocatori sull'esterni ed avere una buona possibilità di andare a raddoppiare. Quello che secondo me è mancato è intanto la precisione, tante volte dell'uscita dal basso, l'evento si è commesso degli errori banali, da partita da Cabal, passando per lo stesso Turam, ci sono stati veramente un sacco di errori che non possono esserci quando decidi di fare tuo il pallino del gioco, perché poi vai a rovinare tutto quello che vai a costruire, anche assumendoti il rischio di partire da dietro, ma soprattutto secondo me oggi abbiamo visto quanto il centrocampo sia stato abbandonato a se stesso, lasciato vuoto, cioè la volontà era comunque cercare di trovare la superiorità numerica sugli esterni, arrivandoci o con un cambio di gioco o con un dialogo tramite il palleggio anche partendo da dietro, però troppe volte ci siamo ritrovati con un Turam completamente abbandonato a se stesso. Però intanto abbiamo visto che la Juventus certe cose sta cercando di farle, questa è una seria indicazione chiara, precisa, di voler cercare di fare le cose in questo modo qui. Nel secondo tempo ci sono un paio di cambi, Perini e Ildiz, che sono i primi due che entrano nella ripresa, per poi al minuto 60 far entrare pure i brasiliani. Cosa succede nel frattempo? Beh che intanto la Juve va sotto, la Juventus subisce un gol, difesa ballerina, da registrare sicuramente una difesa che deve migliorare in determinate letture, io non so se Cabal è esattamente un difensore centrale, per me è più un terzino che un difensore centrale, però questo ce lo dirà il tempo, Gatti e Cabal non è una difesa a quattro con quei due centrali che mi può trasmettere fiducia, no, mi sento molto portato a subire un'imbarcata, perché sono due giocatori che difficilmente riescono a dare una sensazione di difesa ermetica, quindi non mi sono piaciuti come coppia centrale, non investirei tanta fiducia e tanto tempo nel provare questa coppia centrale. Però poi la Juve riesce tramite un inserimento di Locatelli a conquistare il calcio di rigore e andare sul risultato di 1-1. In quel momento entrano i brasiliani, Danilo si colloca come terrestino di destra, quindi il suo vecchio ruolo, quello che fa comunque anche con il Brasile, Bremer prende il posto al centro della difesa, quello che è il posto che era di Gatti fino a qualche minuto prima, ma soprattutto secondo me c'è da registrare l'ingresso di Douglas Lewis. Poi magari parleremo un po' più nel dettaglio nel video di domani di Douglas Lewis, però mi è sembrato il giocatore in grado di dare veramente un qualcosa in più alla Juventus, di cambiare il volto del centrocampo. I primi due o tre palloni toccati da Douglas Lewis ti hanno fatto dire ok, questo è un giocatore che il pallone lo tratta in maniera differente. Non è un caso che il gol del 2-1 della Juventus, del vantaggio della Juve, sia nato proprio da un'occasione che si era creato lui, dove il portiere si è dovuto superare, ha dovuto fare un miracolo. E in seconda battuta, da un calcio d'angolo battuto proprio da lui, dove Danilo poi svetta da solo praticamente, perché non era stato marcato dai difensori avversari, però calcio d'angolo battuto veramente molto, molto bene a Douglas Lewis, che secondo me si è presentato nel migliore dei modi al suo nuovo pubblico. Quindi Douglas Lewis è il giocatore da tenere d'occhio, che si è messo sul centro-sinistra nel 4-1-4-1, la posizione che aveva occupato Fagioli per tutto invece il primo tempo. Douglas Lewis in quella posizione può aver senso, e forse si capisce anche il perché la Juventus stia cercando di andare a prendere Cobb Mainers per cercare di mettere loro due alle spalle di Vlaovic con Turam davanti alla difesa. Credo che questo sia bene o male la volontà della Juve, anche se io non so se Turam può fare da solo quel ruolo lì. A me avrebbe bisogno di una mano in più e quindi dei centrocampisti che vanno un po' di più a giocare vicino a Turam. Douglas Lewis ha provato a farlo. Due o tre volte è andato a prendere il pallone basso, è andato a gestirsela, si abbassava. Quindi da quel punto di vista Douglas Lewis credo che sia un giocatore chiave per il metodo di approccio della Juventus di quest'anno. Poi purtroppo nel momento migliore della Juve dove nasce anche un gol del 3-1 annullato, credo per mano di Vlaovic se ho ben capito, era un gol di Hildiz con la Juventus che era uscita molto bene da una rimessa laterale, una ripartenza dal basso veramente fatta nel migliore dei modi con il cambiocampo dall'altra parte, si arriva in area e poi Hildiz insacca il 3-1 annullato però da registrare la qualità dell'esecuzione della Juventus. Quindi la Juventus quelle cose le sa fare, sono all'interno delle sue corde, le può fare, deve soltanto cercare di intanto farle di più perché le abbiamo viste fare poco, soprattutto secondo me più velocemente perché uno dei limiti grandi della Juventus di oggi è stato il fare le cose un po' troppo lentamente. Secondo me siamo stati troppo lenti, troppo macchinosi, ripeto, siamo ad agosto, c'è assolutamente margine per migliorare però io già stasera sono un po' più tranquillo rispetto all'amichevole tedesca dove avevo visto veramente poco, avevo visto tante difficoltà soprattutto fisica ecco oggi invece ho visto una Juve che andava meglio e poi nel momento migliore della Juve subisce il gol del 2-2 purtroppo è successa anche questa cosa qui un errore generale secondo me della difesa che parte da un errore di Danilo nel salire poi diventa un ritardo di Cabal nel scappare c'è ovviamente l'errore di Perin sul gol non possiamo farci niente fino a che avvengono in amichevole queste cose possiamo soltanto che imparare dei nostri errori cerchiamo di massimizzare gli errori da fare in questo amichevole poi ritrovarci a partire dal 19 di agosto la partita di esordio di campionato con il Como da aver esaurito le nostre cavolate da fare quindi vi dico la verità oggi il risultato 2-2 mi interessa poco sinceramente però ho visto delle cose interessanti la più interessante secondo me è vedere come la Juventus si trovi perfettamente a suo agio nella fase di riaggressione del pallone perché nei momenti migliori della Juve e non sono stati tanti perché comunque è stata una partita secondo me che ci lascia ampi, grandissimi margini di miglioramento però quella è una cosa in cui vedo che la Juventus è a suo agio cioè in quella fase della Juventus è brava quando va in anticipo riesce ad arrivare prima sul pallone crea il break è stata anche l'occasione che ha fatto nascere il primo vero pericolo per la Juve quel missile, possiamo dire così di UEA nato dopo un recupero interessante sulle tre quarti campo mi pare da Fagioli e Turam in combinazione poi c'è stato un gol mangiato da Vlaovic sul calcio d'angolo successivo però io credo che in questo momento la Juventus abbia trovato un pochettino la sua dimensione quindi la regressione deve essere assolutamente una parte integrante di questa nuova Juventus e bisogna migliorare la velocità nel fare determinate cose perché quando poi fai l'uscita dal basso e cerchi di partire prendendo il vantaggio partendo dal basso se poi vai a perdere il tempo di gioco perché non lo fai in maniera fluida, efficace e veloce ecco che allora lì hai buttato via tutto quello che ti sei andato a guadagnare andando ad assumerti dei rischi nel partire da dietro perché ovviamente gli avversari avranno poi meno metri da fare per farti gol quando vai a recuperare il pallone però se decidi di assumerti questi rischi allora poi devi massimizzare non devi essere lento nell'esecuzione io stasera ho visto qualcosina interessante so che siamo ancora indietro questo è un dato di fatto però ho fiducia del fatto che nelle prossime due settimane si possa iniziare al meglio il campionato però c'è da muoversi sul mercato questo va detto con grande chiarezza perché la Juventus sta sudando, sta faticando, sta costruendo indubbiamente però anche oggi abbiamo visto le convocazioni abbiamo visto dei giocatori che sono stati fatti fuori dal progetto benissimo, è giusto se uno considera quei giocatori arrivati al termine perfetto però vanno sostituiti in maniera adeguata perché la Juventus non sta facendo un calcio mercato sta facendo una sessione di rivoluzione e siamo molto indietro proprio numericamente siamo molto indietro non parlo di qualità, parlo di numeri nel momento in cui decide di far fuori determinati giocatori ok però adesso va integrato perché anche stasera abbiamo visto una squadra che ha un cantiere aperto un cantiere che sta iniziando a costruire qualcosa che secondo me ha pure senso però adesso nella settimana che viene almeno un paio di colpi dobbiamo incastrarli partendo da Tudibò che è la seconda amica che vuole consecutiva senza giocare proprio perché c'è l'interesse della Juventus passando per Cobmeiner vedremo se prima o dopo la Supercoppa Europea in programma il 14 agosto fatemi sapere le vostre considerazioni qui sotto nei commenti un mi piace un'iscrizione al canale e noi ci vediamo domani per un altro tipo di contenuto dove vorrei fare un approfondimento specifico su Douglas Lewis perché è uno dei giocatori che mi è piaciuto di più ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti